Certamente, io ho avuto la fortuna e la sfortuna di conoscere Aleksandr Sapic la prima volta agli europei giovanili di Essingen nel 1995. Quindi parliamo di più di 20 anni fa, già allora era più forte di tutti, sembrava un adulto. Mi ricordo che sia in quegli europei che negli europei dell'anno successivo a Istanbul prese sia il miglior marcatore che il miglior giocatore. In quegli anni sicuramente è stato per quelli della mia generazione il giocatore più forte in assoluto. Era molto difficile prepararsi perché poteva fare qualunque cosa, era un notatore velocissimo, aveva un gran tiro, poteva fare il centro-boa, quindi non era facile trovare dei punti deboli. Abbiamo fatto delle grandi sfide, delle grandi lotte, ci sono state partite in cui lui è stato più bravo, ha fatto più gol, ci sono state anche partite in cui l'ho messo in grande difficoltà perché poi quando sin da piccolo giochi con un attaccante impari e inizi a prendere le misure, impari quali sono i suoi punti deboli, il modo in cui tira. Quindi sono state tante occasioni in cui anche io l'ho messo in difficoltà. So che si è buttato in politica, sicuramente la pallanoto è cambiata da quando lui ha smesso, posso solo fargli un grande in bocca al lupo per la sua futura carriera. Sarà stata una scelta non facile quella di terminare la pallanota, è un giocatore che poteva ancora dare tanto al nostro sport, però se ha fatto questa scelta sicuramente avrà visto lontano nel futuro e quindi più grande in bocca al lupo per la sua carriera futura.